salve a tutti ragazzi io sono squall e bentornati su opera omnia versione global ci troviamo nel banner di lullo e andremo a pullare proprio per lei di questo banner oltre la ex di lullo mi mancano anche la sua 15 e la sua 35 credo di avere qualche copia così presa nel banner precedente quando uscì lullo e mi manca anche la ex di jacket ora se jacket non mi esce non è affatto un problema lullo invece vorrei cercare di ottenerla perché avere un dps magico in squadra mi aiuterebbe notevolmente anche perché fa abbastanza danni abbiamo 297 mila gemme che non toccheremo e abbiamo anche la bellezza di 686 ticket magari arriviamo intorno ai 500 ci andiamo a spendere 186 ticket su questo banner naturalmente vedo anche come gira perché se gira bene provo a ottenere entrambi le ex sia quella di lullo che quella di jacket vediamo vediamo come sempre ragazzi i ticket ve li velocizzo e speriamo di ottenere tutto il prima possibile così da risparmiare anche qualche ticket che momentaneamente sto cercando di accumulare quante più risorse possibili per i banner futuri dove tenterò di pullare perché adesso incominceranno a uscire personaggi sempre più prepotenti ma bando alle ciance iniziamo 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 Grazie a tutti. Oh, grande Lulu. Va benissimo. Mi è uscita la sua ex, quindi per me il banner potrebbe concludersi qua. Abbiamo ottenuto la ex di Lulu, abbiamo ottenuto la sua 35, abbiamo ottenuto qualche accoglio della sua 15, quindi ottimo. Ho completato il set di Lulu, ma mi manca ancora la ex di Jacket. Ora, siamo arrivati a 515 ticket. Magari arriviamo a 486, 485 giusto per andare con il pari, per modo di dire, perché poi è un numero dispari. Eh, sì, direi di arrivare a 485, così giusto per averci giocato quei 201 ticket. Dai, continuiamo alla ricerca della ex di Jacket. Come, now. Ciao. Beh, ragazzi, che dire. Banner abbastanza fortunato, poiché ho ottenuto la ex che cercavo. Mi poteva uscire benissimo anche quella di Jacket e non uscirmi quella di Lulu, costringendomi così o ad abbandonare il banner o a continuare a pullare. Mi va benissimo così, anche se non ho ottenuto la ex di Jacket, magari la recupererò in futuro, sicuramente uscirà in altri banner, non è assolutamente un problema recuperare la sua ex. E per quanto riguarda Lulu, invece, attualmente, non penso di farla viola. Magari aspetto la Feod, vediamo se ho bisogno di un personaggio magico in qualche caos, se ho bisogno di lui, perché... I ringotti, momentaneamente, sono quelli che sono, e preferisco conservarmeli per i personaggi che sono sicuro che porterò a viola. Credo comunque di aver maxato sia la 15 che la 35 senza utilizzare le Power Stone, sia di Lulu che di Jacket. E per quanto riguarda Waka, beh, sono tutte Power Stone, le sue armi, perché Waka non mi interessa, assolutamente. Quindi, banner chiuso. Definitivamente, non continuo a pullare su questo banner, anche se, come detto, mi manca ancora la ex di Jacket. Va bene così, mi va benissimo così. Beh ragazzi, io vi auguro tantissima fortuna con le vostre pull, spero che vi escano le armi ex velocemente, magari con qualche ticket. Sia da questo banner, che dagli altri banner, colore stesse cercando altri personaggi, tipo Yuri, dove io non ho pullato perché non lo ritengo propriamente OP. Sì, è forte, però secondo me è schippabile, Yuri. Voi che dite? Dovrei provare a pullare anche per Yuri? Beh, nel caso, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Io vi invito a iscrivervi al canale, lasciare like, commentare, condividere il video, attivare la campanellina così da non perdervi tutti i prossimi episodi che usciranno sul canale, di seguirmi anche sui social, che come sempre trovate in descrizione, e noi ci rivediamo a un prossimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!